Il mediatore è responsabile se l'immobile è abusivo, o comunque non regolare? Ho ritirato una proposta di acquisto nella quale ho specificato che l'immobile era privo di agibilità e che le planimetrie catastali non erano conformi allo stato di fatto. Successivamente, è risultato che l'immobile era anche affetto da abusi di cui non ero a conoscenza e dei quali il venditore non mi aveva detto niente. Ora, l'acquirente sostiene che sono responsabile per le mancate informazioni sugli abusi, è vero? Dipende. Nel suo caso, lei ha correttamente riferito tutte le informazioni di cui era a conoscenza o che poteva conoscere. La maggioranza della giurisprudenza spiega che il mediatore non è responsabile delle irregolarità edilizie che non gli siano state riferite dal venditore, in quanto si tratta di informazioni che richiedono accertamenti estranei alle sue possibilità. Nel caso di specie, poi, la circostanza che lei ha riferito che l'immobile era privo di agibilità e che non era conforme alle planimetrie catastali, non consente di escludere che l'acquirente fosse consapevole delle irregolarità edilizie. Il principio è stato ribadito proprio ultimamente da una sentenza ottenuta dallo studio d'Aragona, legali associati innanzi al Tribunale di Santa Maria Capo Avetere nel gennaio del 2024. Responsabile del procedimento avvocato Giovanna Carbone. Il documento è gratuito per le agenzie convenzionate. Vedo che hai trovato interessante il nostro reel. Se vuoi altri contenuti come questi lascia un like e scrivi 100 nei commenti. Sei un agente immobiliare? Hai mai provato il servizio di consulenza legale telefonica Fotoam specializzata Lex Consult? I nostri avvocati affiancano in tempo reale gli agenti immobiliari nella risoluzione di tutte le problematiche delle compravendite e locazioni immobiliari. Ascolta il parere degli agenti immobiliari che hanno utilizzato il servizio di consulenza legale questa settimana. Grazie mille per l'aiuto avvocato Brescia. Sempre disponibile e chiarissima nell'esposizione. Un grande supporto quotidiano. Avvocato Leo. Sempre disponibile. Grazie avvocato Carbone. Un professionista esemplare è stato di grande aiuto in una situazione non semplice. Una consulenza più che esaustiva. Grazie avvocato d'Aragona. Sempre veloce nella risposta e molto disponibile. Avvocato Carretta. Una telefonata ti salva l'affare. Per informazioni chiama 3 4 5 6 0 4 7 8 2 9.